Questa sera voglio dare un ringrazio a Michele, Giuseppe, un grande appassio, hanno dato un'opportunità a persone che hanno voglia di suonare. Voglio farti divertire, Bedacea ringrazio la presida e la presenza ringrazia Bedacea. Io ringrazio tutti, tutti quanti, Luigi, Patrizia, veramente senza queste persone tutto ciò non poteva esistere. E' un ringraziamento particolare anche al comune di Bedacea perché abbiamo messo tutto ciò. Per noi ci conoscere non c'è bisogno di dire niente. Anzi, c'è qualcosa da dire che non abbiamo mai provato, quindi dopo dieci anni suonare dei modi insieme per noi è qualcosa di meraviglioso. Faremo solo un pezzo per noi e per voi. Grazie. 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 La música. Grazie. Buon passe.